Sì, Lia. Va bene. Da quanto è sposata? Tre anni. Hanno trovato un'impronta insanguinata sulla lampada che ha ucciso Sally. L'omicida portava due anelli. Ha un dito della mano sinistra. Sally conosceva la sua assassina. L'ha fatta entrare ed è rimasta con lei quanto? Mezz'ora? No. Vuole dirmi com'è andata? Era Jimmy il cervellone, non Daniel. Lo sapevamo solo noi tre e Frank sospettava di stare trattando con il fratello sbagliato. Continuava a telefonare, insisteva per sapere la verità. A Jimmy non interessano i soldi, lo faceva solo per aiutare il fratello. Io ero insieme a Sally stamattina, quando hanno chiamato e Sally ha saputo di Daniel. Le ho raccontato tutto. Si è infuriata perché Daniel e Jimmy le avevano mentito. Diceva che avrebbe denunciato mio marito e lo avrebbe fatto rispedire al suo paese. Urlava contro di me, diceva cose terribili. Ho visto la lampada, era lì, così l'ho afferrata e poi... Ha raccontato tutto a Jimmy. Ma... Ora non lo rimanderanno indietro, vero? No. No, non lo rimanderanno indietro.